Oggi una millefoglie alla crema bavarese, che potremmo fare anche per la festa della mamma. Passiamo un po' il mattarello sulla sfoglia, ricariamo due rettangoli, trasferiamole sulla teglia, polveriamo con lo zucchero a velo, appoggiamo un'altra teglia sopra a 200 gradi statico per circa 15 minuti. Prepariamo la crema, abbagno i fogli di colla di pesce, panna fresca, aggiungiamo lo zucchero in più riprese, mettiamola in frigo e andiamo a preparare la crema, l'amido, maestro, riso e zucchero. Grazie.